E' stato presentato a Firenze, nella sede della regione toscana, il bilancio di SatSpa, la società che gestisce l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il 2012 è stato un ottimo anno per l'aeroporto. I ricavi operativi hanno raggiunto 67,2 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto all'anno precedente. L'impatto economico sul territorio è stato stimato in oltre un miliardo di euro e circa 6.000 posti di lavoro. Oggi al Galilei lavorano circa 2.100-2.400 persone. La contrazione di spesa degli italiani è davanti agli occhi di tutti. Quello su cui noi contiamo è che ci sia comunque una risposta in ingresso dall'Europa. Però l'anno è indubbiamente un anno difficile. Il fatto che noi, dall'inizio della crisi economica ad ora, abbiamo congiuntivato risultati sempre migliori, ci dà coraggio per andare avanti con positività. Però di più, nel 2013, non credo che non lo possa dire nemmeno il mago giurlì. Molte le novità per il 2013. Per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale, all'aeroporto Galileo Galilei sono provvisti diversi interventi. Il potenziamento delle infrastrutture di volo e della pista principale. L'ampliamento del terminal passeggeri al lato est. La realizzazione di un impianto a metano per l'autoproduzione dell'energia elettrica. Noi abbiamo un people mover che ormai è passato dalla teoria alla pratica. Nel senso che il 28 febbraio è stata consegnata la progettazione definitiva. I lavori dovrebbero iniziare nel 2014, ma già subito dopo mondiali di ciclismo ci dovrebbe essere la chiusura per la realizzazione del people mover. La chiusura del binario ferroviario per la realizzazione del people mover. A quel punto lì l'aeroporto e la stazione ferroviaria saranno una cosa sola e sarà anche un modo per migliorare la qualità sulla linea Livorno-Pista-Firenze, che comunque è la linea regionale più importante della Toscana e quindi va comunque velocizzata. Il network per la stagione estiva 2013 vedrà operativi 8 nuovi collegamenti. Nel dettaglio Ryanair opererà nuove rotte su Varsavia, Targumures, Lipsia, Marsiglia e Norimberga. Air One opererà due nuove voli verso Mosca e San Pretorburgo. Norwegian opererà un nuovo volo per Stoccolma. Inoltre nel mese di luglio riaprirà il collegamento diretto Pisa-New York-JFK, operato da Delta Airlines. In totale nell'estate 2013 Pisa sarà collegata con 77 destinazioni, di cui 10 nazionali e 67 internazionali. È vero che il gioco Pisa è portare quanti più stranieri vogliono venire in estate in Toscana, quindi speriamo che la stagione estiva vada bene e che i mondiali di ciclismo che ci aspettano a settembre portino a Pisa e in Toscana tanti turisti in più perché ne abbiamo bisogno.